Prima di iniziare questo nuovo percorso nell'interno della teologia morale della lettera agli Efesini, come è stato annunciato, noi ora dobbiamo ancora completare il nostro ritratto della Chiesa secondo gli Efesini. Abbiamo ancora due profili da delineare, se ricordate avevamo indicato innanzitutto l'aspetto teologico, poi l'aspetto cristologico e ora vorrei ancora indicare due fisionomie della Chiesa, innanzitutto quella ecumenica, la dimensione ecumenica nel senso originale del termine, cioè la Chiesa la quale ha un suo orizzonte, un immenso orizzonte da abbracciare e questo orizzonte ha al suo interno diverse esperienze religiose, diverse esperienze culturali, etniche persino. Lasceremo soprattutto la parola all'autore della lettera, il quale a più riprese ci ripresenterà questo tema. Cominciamo innanzitutto col capitolo secondo, nei versetti 14-18, dove abbiamo una specie di inno. Infatti la formula che noi ora ascolteremo è una vera e propria formula, formula sembrerebbe quasi liturgica dall'andamento quasi cantato. Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in sé stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Come vedete avete proprio lo stile che non è di Paolo. Si riesce subito a capire questa ripetitività, anche un po' se volete una certa ridondanza, una costruzione anche abbastanza molto ramificata che non è nello stile di Paolo, il quale se usa qualche volta il fluire torbido, vischioso nel suo discorso, lo fa sempre però con delle striature incandescenti, con la forza un po' della sua passione, con l'uso anche il contorcimento stesso del dettato, dell'espressione, della lingua, della formalizzazione del discorso. Qui invece abbiamo piuttosto un percorso che come vedete è abbastanza comprensibile, però è un po' appesantito. Il tema comunque è chiarissimo, un tema che sta a cuore all'autore, perché lo ripete, lo ripete con insistenza. E io di questo brano vorrei soprattutto sottolineare due aspetti, due dimensioni. Da un lato quel simbolo che appare all'inizio, Cristo entra in scena e abbatte il muro di separazione, che era fra mezzo, abbatte un muro. Qual è questo muro a cui Paolo allude? Evidentemente uno potrebbe pensare che Paolo si riferisce a quello che anche noi tendenzialmente consideriamo una linea di frontiera, che anche noi consideriamo una cortina divisoria. In realtà il riferimento forse è molto più concreto di quanto sembri. Noi sappiamo che nel Tempio di Gerusalemme c'era una planimetria costituita da più cortili e questi cortili portavano dei nomi. C'era il cortile degli israeliti, dove potevano accedere soltanto gli ebrei maschi. C'era poi il cortile delle donne, dove potevano accedere come in un ideale matroneo le donne ebree, e poi c'era il cortile dei gentili. Ebbene, questi cortili erano separati da divisori, divisori in pietra. Ora, il divisorio tra il cortile delle donne e il cortile dei gentili era contrassegnato, era anche scandito, questo muro, basso muro, era contraddistinto anche da targhe di marmo, delle quali una è venuta alla luce ed è stata anche ed è ancora perciò visibile, scritta in greco. Naturalmente apparteneva al Tempio di Erode, il Tempio frequentato anche da Gesù e da Paolo. Questa targa, queste targhe, combinavano la pena di morte a tutti quei gentili che avessero osato varcare quel muro di separazione. E allora vedete che l'immagine acquista una sua concretezza tutta particolare. L'autore dice Cristo è venuto per abbattere quel muro che divideva i due cortili, che divideva i due popoli e ha fatto, li ha invitati ad unirsi, a non temere più, a non avere più paura l'uno dell'altro perché essi costituiscono un solo popolo e quel muro diventa metaforicamente, dice, l'inimicizia che divideva i due popoli. C'è poi un secondo elemento che vorrei sottolineare. Nel versetto 16 si dice egli è venuto per riconciliare questi due in un solo corpo. Riconciliare in greco è apocatallasso, cioè un verbo che veniva usato nel linguaggio giuridico greco per indicare la riconciliazione tra i due, il tentativo di riconciliazione tra i due e che stavano per separarsi in un'unione matrimoniale. Era il tentativo del giudice, come ancora oggi si fa, prima di pronunciare la sentenza di separazione e di divorzio, che tenta di ancora metterli insieme, di riconciliarli. Anche nella seconda lettera ai Corinzi questo verbo diventa l'annuncio del missionario, dell'apostolo, il quale invita a lasciarsi riconciliare con Dio, sottolineando che questa operazione è un'operazione soprattutto di Dio, il quale desidera non perdere la sua sposa, che è l'umanità. C'è quindi anche un aspetto intenso in questa unità ecumenica. Dio vuole che tutti in Cristo si uniscano in un rapporto che è un rapporto di intimità, non soltanto la costituzione di una nuova società. Il tema continua e soprattutto s'allarga in maniera particolare, punta verso quell'orizzonte che preme all'autore della lettera agli Efesini, cioè il coinvolgimento dei pagani. E voi questo lo sapete già perché io vi ho letto tempo fa il capitolo terzo, il versetto sei, dove abbiamo, con molta originalità rispetto al resto delle lettere paoline, che il mistero, cioè il grande progetto che era nella mente di Dio e che ora è stato rivelato attraverso i santi apostoli e i profeti, è, due punti, che i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare della stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa. Sentite sempre le ripetizioni tematiche, ma sempre, vedete questa convinzione che i pagani devono entrare nell'interno di questo grande orizzonte, i pagani sono cooptati al mistero della salvezza di Israele. Vedete che il mistero della salvezza di Israele non è più un privilegio, ma è un segno a cui tutti devono fare riferimento per essere alla fine tutti ammessi in un unico popolo e questo unico popolo è la Chiesa nella concezione della lettera agli Efesini. Ma ancora, nel capitolo secondo, ricordatevi, versetti 11 e 12, che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ed ecco la svolta nel versetto 13. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete divenuti i vicini. Penso che sia chiarissimo e forse se anche un po' state attenti, sia pure nella traduzione, al giro delle frasi, vi accorgete dello stile. Avete notato la ripetizione del verbo ricordarsi perché è quasi per riprendere il tema, c'è un ricordatevi all'inizio e poi l'autore è andato avanti allargando la frase, riprende ancora il verbo per sollecitare l'attenzione. Ma il tema è chiaro, lontani, non avevate nulla delle grandi promesse dell'Antico Testamento, ora in Cristo voi siete i vicini attraverso il suo sangue. E da ultimo potremmo citare ancora nel capitolo secondo al versetto 19, quella celebre, bellissima espressione diventata giustamente proverbiale, quasi, per il cristianesimo, 2,19. Così dunque voi, voi ricordate il gioco, ovvero del noi e voi, l'indirizzarsi a una comunità prevalentemente pagana, da parte di uno che si considera invece di matrice giudaica, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Guardate questi quattro vocaboli distribuiti su due filari. I due vocaboli da un lato negativi, xenoi, la nostra parola è xenofobia, xenoi, stranieri, ospiti, paroi coi, e vedete, oichia è la casa, paroi coi, quelli che stavano fuori casa, accanto alla casa, non dentro. Che cosa siete diventati ora? Sympolitai in greco. Vedete, la polis, la città, tutti insieme, insieme agli altri, syn, sympolitai, e, naturalmente, in parallelo, che cosa sarà l'altro termine e deve correggere il precedente, se prima c'era paroi coi, ora voi diventate oicheioi, siete cioè della stessa casa, della stessa famiglia. Giustamente, ho detto, questa espressione è stata citata anche perché ha quella sua visione già, se volete, della Chiesa congiunta quasi attraverso un canale di comunicazione col futuro perfetto perché noi non diventiamo solo con cittadini degli ebrei, non diventiamo soltanto della stessa famiglia loro, ormai noi diventiamo con cittadini dei santi e familiari di Dio, ormai la grande comunità perfetta che si riunisce in Dio. E arriviamo all'ultimo elemento della Chiesa così come era disegnata da questa lettera che abbiamo letto, è profondamente ecclesiale. Abbiamo visto dimensione teologica la Chiesa nel mistero nel grande progetto di Dio dimensione cristologica in Cristo essa fiorisce abbiamo visto la dimensione ecumenica nel senso autentico del termine l'ecumene che tutto abbraccia tutto razze culture religioni e da ultimo la dimensione strutturale cioè la lettera degli Efesini mostra già una Chiesa che è ordinata che è organizzata che ha dei gradi diversi dei carismi diversi nell'interno della comunità stessa e non è corretto infatti concepire ma ormai non c'è più nessuno che concepisca in maniera antitetica le due visioni ecclesiologiche le due visioni della Chiesa quella si usava a dire nel secolo scorso da parte soprattutto dei studiosi protestanti quella Petrina e quella Paolina quella Petrina strutturale paleocattolica con una organizzazione già visibile con una sua struttura persino sociale dall'altra parte la Chiesa carismatica verticale in cui è solo l'irruzione dello spirito la vivente congregazione comunione del Cristo vivente in secondo le Chiese Paoline Paolo e non soltanto in queste lettere ma lo vedremo anche lo vediamo subito anche nei testi che sono sicuramente Paolini le lettere proto-Paoline appare mostra già l'Apostolo una Chiesa organizzata strutturata con delle funzioni con delle missioni ben precise e l'immagine che adopera in 2.22 è proprio l'immagine del Tempio che tra l'altro è un'immagine anche come ben sapete usata da Paolo in prima Corinzia capitolo terzo quando definisce la Chiesa come un grande edificio costruito su un basamento infatti noi sentiamo nel capitolo secondo al versetto 22 in lui anche voi in Cristo insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello spirito anche voi vedete ebrei sempre l'idea ecumenica ebrei e pagani però venite edificati come Tempio come dimora di Dio e si cerca anche di descrivere questa dimora lo si dice per esempio questo Tempio l'architettura di questo Tempio nel capitolo terzo per esempio al versetto 2 si comincia a dire penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato quindi c'è già un ministero a me mio e se voi andate a vedere nel capitolo secondo al versetto 20 avete a questo punto la rappresentazione molto trasparente di questa architettura siete edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti ecco il ministero paolino ministero che fa da base apostoli e profeti e avendo però come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù la radice ultima però è sempre Cristo come si diceva anche nella prima lettera di Corinzi capitolo terzo noi non possiamo porre altro fondamento basilare se non quello di Cristo vediamo in particolare com'è costruita questa chiesa nell'interno di un paragrafo il paragrafo del capitolo quarto i versetti 7 16 è un brano che io vi invito a leggere integralmente io cercherò ora di mettere in luce alcuni elementi di questa ideale planimetria della chiesa di questo disegno architettonico della comunità ecclesiale in tutte le sue scansioni in tutte le sue articolazioni nella sua strutturazione cominciamo innanzitutto sempre con Cristo che è punto di partenza e punto d'arrivo quindi da questo punto di vista non dobbiamo mai dimenticare che la chiesa è un mistero la chiesa cioè non ha assolutamente un'organizzazione gerarchica che è sulla base delle strutture di tipo politico anche le gradazioni che vedremo i ministeri sono carismatici infatti la grande svolta che farà il nuovo testamento è quella di rifiutare di applicare a Cristo una definizione di sacerdote Cristo non è sacerdote è tra virgolette un laico la lettera agli ebrei che parla di Cristo sacerdote dice però non è al modo del sacerdozio non è come il sacerdozio di Levi cioè ci si preoccupa di fare in modo di mostrare che questa struttura in cui ci sono dei sacerdozzi sacerdozio ministeriale poi dirà la chiesa la tradizione sacerdozio comune non è comunque da esemplare su quello dell'antico testamento o su altri sacerdozzi che appartengono alla gestione del potere religioso voi sapete che nell'antico testamento il sacerdozio era ereditario era familiare era biologico quello del nuovo testamento è vocazione è squisitamente verticale scende direttamente da Dio ebbene sentite come questo tema del Cristo punto di partenza è ribadito nell'interno di questo paragrafo per esempio versetti 7 e 8 a ciascuno di noi tuttavia è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo ognuno nell'interno di questa struttura ha un dono dono di Cristo poi ancora troviamo nel versetto 10 colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra dei cieli di tutti i cieli per riempire tutte le cose quindi la chiesa è vedete percorsa continuamente discenzionalmente ascenzionalmente dal Cristo che tutto santifica che tutto consacra nel versetto 11 è lui che stabilisce alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e maestri e voi vedete la lista in questo caso proprio dei gradi però questi gradi quelli che hanno la funzione di profeti con una funzione nell'imperno della comunità ecclesiale particolare di annunciatori evangelisti di pastori di insegnanti di maestri di dascaloi nella fede ebbene tutti costoro però sono da lui stabiliti non dalla chiesa non da una organizzazione e ancora troviamo lo stesso tema nel versetto 13 finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo noi tutti dobbiamo diventare come Cristo punto d'arrivo in questo caso poi ancora abbiamo nel versetto 15-16 cerchiamo 15-B-16 cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui che è il capo Cristo dal quale tutto il corpo ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura secondo l'energia propria di ogni membro riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità avete notato l'insistenza sempre secondo lo stile dell'autore che ama la ripetizione però l'insistenza vuol dire siamo molto articolati ci sono giunture l'immagine del corpo si intende che collaborano tra di loro è un corpo che ha una compagine che è connesso quindi ha tutta una serie di relai di collegamenti e ha un'energia propria in ogni membro per cui è diversa l'energia propria del cervello rispetto a quella del piede quindi c'è una specifia però tutto questo si ripete ancora che converge verso il Cristo da cui tutto capo da cui tutto si riceve a cui tutto si alimenta quindi primo aspetto da sottolineare di questa ideale cattedrale che è la Chiesa è il suo essere realtà realtà trascendente essere dono essere cristologicamente fondata secondo i ministeri sono descritti ve li ho letti poco fa nel versetto 11 evangelisti pastori maestri profeti prima qualche d'uno pensa che questi siano gradi di importanza qualche d'un altro dice sono gradi così come si sono configurati nell'interno della Chiesa delle origini è difficile dire però sta di fatto che Paolo ha la convinzione nelle sue lettere che esiste nella Chiesa una vera e propria struttura di governo e una struttura anche di ministeri di funzioni guardiamo ad esempio prendiamo la prima lettera ai Corinzi capitolo dodicesimo al versetto ventotto lettera sicuramente Paolina alcuni Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli in secondo luogo come profeti in terzo luogo come maestri vedete che c'è una gradazione anche precisa una specie di anche di articolazione poi vengono i miracoli poi i doni di fare guarigioni i doni di assistenza di governare delle lingue e ancora Paolo poi continuerà sono forse tutti apostoli domande retoriche tutti i profeti tutti i maestri tutti i operatori di miracoli tutti possiedono doni di far guarigioni tutti parlano lingue tutti le interpretano e lì ci sarà poi il suo discorso sulla diversità dei carismi quindi dei doni specifici personali la caris la grazia è data a tutti il carisma ognuno secondo la sua vocazione specifica e ancora se volete nella lettera ai romani capitolo dodicesimo testo classico questo del pensiero paolino nella lettera ai romani capitolo dodicesimo versetto dunque abbiamo nella lettera versetti sei otto abbiamo abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi che è il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede che ha un ministero attenda al ministero chi l'insegnamento ha l'insegnamento chi l'esortazione ha l'esortazione chi dà lo faccia con semplicità chi presiede lo faccia con diligenza chi fa opere di misericordia le compie con gioia come vedete sono anche funzioni e missioni ben diverse c'è uno che ha il compito il ministero della presidenza della comunità e l'altro invece che ha la funzione dell'impegno pastorale concreto c'è chi ha l'insegnamento e chi invece ha la carità terzo tutti i membri però hanno un ministero cioè non è soltanto non è una chiesa gerarchica nel senso che ci sono solo alcuni che hanno una responsabilità gli altri sono semplicemente oggetto di questa responsabilità tutti nell'interno della chiesa hanno un ministero di gradi diversi e paolo questo lo sottolinea nella lettera agli efesini proprio cercando di fare in modo che si costituisca sempre di più l'idea del corpo in cui tutti sono importanti ma non perché tutti sono necessari l'uno all'altro perché tutti hanno una precisa funzione infatti egli dice nel capitolo quarto guardate sempre stando a quel brano che ho detto è fondamentale il brano dei versetti 7 e 16 dice nel versetto 7 a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo qui qualche studioso anche celebre come Schlier e Schnakenburg hanno sostenuto che qui si voglia riferire a noi apostoli a noi che abbiamo una funzione specifica è un noi settoriale questo non è vero secondo me perché abbiamo chiaramente il discorso è precisato poi dal versetto successivo tra l'altro il versetto successivo è una citazione come vedete del Salmo 68 nel versetto 19 una citazione molto oscura difficile da spiegare ma il cui contenuto qui in questo caso è semplice per Paolo Cristo ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri ha distribuito doni agli uomini dice per questo sta scritto beh allora vuol dire che quel noi se è giustificato da questa frase della Bibbia per questo sta scritto quel noi sono gli uomini ascendendo in cielo ha portato con sé tutti i prigionieri ha distribuito doni a tutti gli uomini per cui noi sono ma che è fuori di dubbio secondo me che questo sia il senso di Paolo che tutti hanno un ministero nella chiesa e non solo noi è un noi quindi che coinvolge tutti l'abbiamo nel capitolo quarto nei versetti 12 e 13 infatti si dice è lui che ha stabilito i vari gradi per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero vedete gli evangelisti i profeti i pastori i maestri del versetto precedente che scopo hanno hanno quello di rendere idonei tutti i fratelli a compiere il ministero finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio fino alla piena maturità in Cristo per cui la piena maturità della chiesa è che tutti i fratelli siano idonei al ministero è quello che noi chiameremo con diversa espressione useremo chiamare poi il sacerdozio non più ministeriale ma comune tutti i fedeli col battesimo hanno una consacrazione sacerdotale e a questo punto chiudiamo il capitolo ecclesiologia ed avviamoci ormai su quello che avrebbe dovuto essere il tema del nostro incontro di questa nostra riflessione ma qui potremo magari muoverci con maggiore agilità perché non siamo in presenza di un discorso profondamente rigorosamente qualche volta anche in maniera ardua teologico e avete visto come Paolo deve essere letto pazientemente deve essere meditato ma se mi permettete una parentesi come ho già avuto occasione credo di dirla forse dieci anni fa quando abbiamo commentato la lettera ai romani non dimenticate che Paolo non ha scritto queste lettere per noi teologi non le ha scritte per i capi della chiesa le ha scritte per tutti i cristiani il che vuol dire che i cristiani d'allora sapevano molto bene non la catechese semplicemente il catechismo conoscevano bene la teologia è vero molti di loro venivano da formazione giudaica per cui la bibbia la conoscevano però qui abbiamo visto la controprova ci sono i destinatari di Efeso sono dei pagani fino a quando la chiesa non comprende ancora in pienezza le esigenze della catechesi profonda e si accontenta di un sentito dire si accontenta del minimo cercando di non spegnere il lucignolo certo che ancora fiammeggia pur giusto anche questo ma adottando questa che è l'eccezione come la norma è inevitabile che noi non possiamo ancora dirci cristiani in senso pieno la conoscenza della fede è una conoscenza profonda che alimenta la fede stessa e alimenta la carità altrimenti ci sono queste forme di spiritualità e di religiosità pallida in colore in sapore tante volte vittima subito della primo colpo di vento della crisi vittima subito dell'irruzione dell'ultima setta o dell'ultimo gruppo religioso dell'ultima ideologia ebbene la vita cristiana così come viene definita da Paolo cioè il discorso etico è sviluppato soprattutto nella seconda parte della letter i capitoli 4-6 anche se con qualche sconfinamento abbiamo già visto anche noi questo come è ovvio però la lettera si muove con questi due grandi movimenti capitoli 1-3 il tema teologico 4-6 il tema etico morale la vita l'esistenza cristiana sempre connessa con la teologia sempre connessa con l'ecclesiologia se volete una sintesi radicale di tutto il discorso che io adesso articolerò poi in una serie di temi lo potete trovare già nel capitolo secondo e io vi invito a leggere poi voi questa lettera io penso che l'abbiate letta già e che vogliate leggerla sempre di più fino a conoscerla in profondità ecco in maniera particolare la trovate nell'interno del capitolo secondo i versetti 1-10 i primi dieci versetti del capitolo secondo sono veramente da leggere attentamente sono un profilo della vita cristiana così come la concepisce Paolo io ve la riassumo in pochi versetti perché questi versetti sono veramente significativi per farvi capire che l'autore sicuramente ha conosciuto Paolo potrebbe essere anche Paolo come abbiamo detto in un'evoluzione del suo pensiero se si accetta questa tesi che tutto sommato è marginale perché ribadisce la tesi fondamentale Paolina però al tempo stesso aggiunge qualcosa di inedito di nuovo che Paolo di solito non consideravo impostava in un'altra maniera voglio leggervi un testo che vi ho già letto peraltro capitolo secondo la finale di questi dieci versetti iniziali versetti 8-10 per la grazia di Cristo Gesù siete salvi mediante la fede di tipica citazione Paolina lettera ai Galati lettera ai Romani e ciò non viene da voi ma è dono di Dio ne viene dalle opere perché nessuno possa avvantarsene e questo è proprio la grande architrave del portale d'ingresso nella morale Paolina sempre comunque tranne forse nelle ultime lettere come vedete è una lettera agli Efesini profondamente Paolina che sia stata scritta da un discepolo o meno però respira la tesi solo che questo discepolo è anche molto preoccupato però dell'impegno etico e lo vuole marcare di più non semplicemente come nella lettera Gale Pieromanico si dice e le opere sono una conseguenza una volta che voi avete ricevuto la grazia dentro di voi essa fiorisce in opere invece si dice no che le opere fanno parte dell'impegno che Cristo stesso ha inciso nell'interno della nostra missione della nostra vocazione alla fede infatti nel versetto 10 si dice siamo infatti opera sua creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo ricordate che io vi ho già letto questo testo per farvi notare come che abbiamo qualcosa di diverso rispetto alla concezione paolina l'importanza delle opere è messa in pari grado con la fede primato è della fede ma subito dopo il grado di rilievo è quello delle opere dato all'etica ebbene con questo principio perciò cominciamo a fare a disegnare alcuni simboli alcuni segni della vita cristiana io ne vorrei indicare sette invitandovi a ritrovarli poi anche nella vostra lettura però io vi darò i versetti principali li leggeremo insieme più delle volte sono molto trasparenti e permettono non hanno bisogno di tutta quella serie di precisazioni che abbiamo fatto la scorsa volta quando abbiamo studiato il mistero della Chiesa in Dio nel pensiero di Dio primo simbolo veste è uomo vecchio e nuovo è un simbolismo che è caro a Paolo anche nelle lettere classiche sue però con una differenza nelle lettere classiche si dice che la veste che dobbiamo rivestire è il Cristo qui invece semplicemente si parla dell'uomo nuovo abbandonando la veste dell'uomo vecchio ascoltate nel capitolo quarto i versetti 22 e 24 dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici versetto 24 e rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera questo tema ricorre anche nella lettera ai Colossesi per cui ecco una delle tante connessioni tra le due lettere vedremo la prossima volta con la lezione che inizierà la lettura della lettera ai Colossesi nel capitolo terzo i versetti 9 e 10 abbiamo lo stesso tema ripetuto tra l'altro vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine del suo creatore rivestitevi dunque si dice poi nel versetto 12 quindi abbiamo un tema che sarà comune e io la prossima volta vi dimostrerò come la lettera ai Colossesi è da anticipare rispetto agli Efesini e quindi è probabile che la lettera agli Efesini dipenda dai Colossesi anche in questo caso vedete che c'è anche un'idea dinamica e questo rivestirsi voi sapete che la veste è il simbolo della dignità di una persona perché non è dovete mettere qualcosa all'esterno rivestirvi dovete profondamente radicalmente mutarvi diventando creature nuove è la tipica immagine Paolina secondo secondo tema tema caro a questa lettera è quella della imitazione l'imitazione di Cristo anzi meglio l'imitazione di Dio di Dio e di Cristo sentite 4 dal versetto 32 fino al capitolo quinto versetto 2 siate invece benevoli gli uni verso gli altri misericordiosi perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo fatevi dunque imitatori di Dio in greco mimetai la mimesis è l'imitazione non è semplicemente imitare ma proprio quasi lo stamparsi di un profilo di un'immagine quali figli carissimi e camminate nella carità nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore e qui abbiamo vedete messo in linea unitaria discendente avete l'imitazione cristiana imitare Dio il padre e imitare il Cristo e questo tema dell'imitazione cristiana diventerà uno dei grandi temi della spiritualità tardo medievale pensate un libro così classico uno dei libri in assoluto che è stato più tradotto più commentato tra i libri religiosi sicuramente dopo la Bibbia è l'imitazione di Cristo e che ha proprio il riferimento la citazione proprio a questo testo di Efesini e altri dove l'imitazione appare quindi vedete che si tratta di una morale che non è quella naturale non uccidere alcune norme fondamentali no è una morale dell'amore dell'amore a livello più alto voi ricordate quella correzione che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni l'ultima sera della sua vita rispetto al precetto del Levitico ama il prossimo tuo come te stesso amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi con una dimensione che è tipicamente trascendente con una dimensione che porta in sé l'infinito terzo terza simbolica la simbolica della luce e delle tenebre questo ve lo voglio leggere questo brano perché è talmente un brano bello ed è un brano anche che contiene al suo interno sentitelo adesso dalla lettura che io ne farò un frammento innico un frammento innico che qualche studioso pensa che sia faccia parte della liturgia battesimale della Chiesa delle Origini perché avremo la possibilità di sentire cosa cantavano già vi ho detto che forse il cantico di apertura Efesini 1 può essere citato vedremo la prossima volta che Colossesi 1 è probabilmente citato un canto della Chiesa di Colossi sentiamo capitolo quinto siamo nel capitolo quinto i versetti 8-14 è un testo detto molto bello dove appare il contrasto classico biblico tra tenebra e luce e il cristiano non può affondare nell'oscurità del vizio non può scegliere la strada dell'inganno non può scegliere la via dell'oscurità tenebrosa se un tempo eravate tenebra ora siete luce nel Signore comportatevi perciò come i figli della luce il frutto della luce consiste in ogni bontà giustizia e verità cercate ciò che è gradito al Signore non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre ma piuttosto condannatele apertamente poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce perché tutto quello che si manifesta è luce ed ecco in finale questo frammento delizioso innico per questo sta scritto svegliati o tu che dormi destati dai morti e Cristo ti illuminerà è un bellissimo testo questo per varie ragioni prima di tutto perché vedete come cantava nella chiesa delle origini si cantava citando la Bibbia è un tessuto di citazioni bibliche Isaia soprattutto e poi del simbolismo della luce del sonno ma soprattutto c'è un altro elemento significativo allusivo che forse non può essere compreso se non si conosce anche un po' la letteratura teologica neotestamentaria perché sapete come si chiamava nella chiesa delle origini e nei primi anni della grande chiesa come si chiamava il battesimo il battesimo lo si chiamava fotismos l'illuminazione e allora capite che c'è questo catecumeno questo uomo vecchio che arriva ed è addormentato nell'etargo del suo peccato egli vive come un essere spettrale morto nei bassi fondi della morale dove si compiono opere che si ha vergogna persino a citare egli riceve lo squarcio operativo efficace della luce di Cristo si sveglia dai morti il sonno è il sonno della morte ed ecco che egli è avvolto completamente dalla luce di Cristo svegliati o tu che dormi destati dai morti e Cristo ti illuminerà quarto un quarto simbolismo successivo abbiamo lo troviamo proprio subito nei versetti che seguono ed è la rappresentazione della vita morale con immagini di tipo sapienziale cioè ricordare che la vita morale è una vita quotidiana che deve essere norma che regge quasi in filigrana tutta l'esistenza che la sostiene in tutti i suoi sviluppi profittando anche della situazione in cui si è immersi e la situazione in cui si è immersi storica è drammatica è aggrovigliata è scandalosamente difficile eppure sapienzialmente la sapienza voi sapete per esempio il libro dei proverbi impegnava insegnava a vivere il fedele doveva vivere quotidianamente anche nell'interno del groviglio delle contraddizioni quotidiane agli incroci delle strade nell'interno dei problemi della famiglia con tutte le cadute e le risurrezioni che uno ha durante l'esistenza quotidiana sentite proprio questo linguaggio per mostrare come il cristianesimo è una religione del controllo dell'impegno quotidiano sì ma è anche la capacità di saper essere vigili nel tempo presente cogliendo il frutto che è presente anche sentirete in questi giorni che sono cattivi capitolo quinto versetti 15-17 vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta comportandovi non da stolti ma da uomini saggi profittando del tempo presente perché i giorni sono cattivi non siate perciò inconsiderati ma sappiate comprendere la volontà di Dio questa capacità di sapere nel senso più bello del termine avere sapore non solo capire ma avere sapore in modo da comprendere la volontà di Dio che si nasconde sotto l'involucro spesso striato dalla contraddizione dicevo dall'oscurità dal sangue anche che che sono i giorni cattivi quinto il cristiano deve vivere la morale nella gioia deve vivere il suo impegno quotidiano di luce in maniera festosa e questo è un aspetto credo che è poco è stato poco purtroppo praticato ma anche ai giorni nostri tante volte l'insegnamento morale è un insegnamento moralistico le prediche dei preti sono state per anni e anni sempre prediche moralistiche minacciose e mai avvolte dall'afflato della morale la morale è una delle grandi qualità specifiche dell'uomo e invece erano sempre protese a individuare quasi soltanto ed esclusivamente il negativo il negativo anche del positivo paradossalmente presentando magari un impegno di vita sempre come un grande peso come un obbligo un dovere e non invece come la realizzazione di se stessi vivere da uomini nuovi vivere da figli della luce vivere vivere comprendendo il senso presente e il disegno di dio è anche una grande avventura dello spirito è anche una leggerezza dello spirito una trasparenza dell'anima ed ecco come la descrive di fatti questo autore nel capitolo quinto sempre i versetti 18-20 giocando anche qui su un simbolo che per chi evidentemente non tutti lo possono sapere è un'allusione raffinata cioè vuol dire che lui aveva anche delle letture abbastanza nobili vediamo vi spiego dopo ascoltate per ora il testo non ubriacatevi divino il quale porta la sfrenatezza e qualche uno qui l'ha letto in senso moralistico dice sta condannando le orge no non è vero qui l'autore sta facendo una citazione allusiva spieghiamola dopo non ubriacatevi divino il quale porta la sfrenatezza ma siate ricolmi dello spirito intrattenendovi a vicenda con salmi inni cantici spirituali cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore rendendo continuamente grazie per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo come vedete il crescendo anche vedete anche lo stile enfatico un po' ripetitivo ma pur sempre affascinante di questo autore il quale dice la vita cristiana è un canto eucaristico come dice il greco eucaristia ringraziamento deve essere un canto di tutto il vostro cuore e continuo continuamente perché dicevo non è che lui voglia contrapporre la persona che è ubriaca al cristiano che è sobrio no qui egli vuole alludere a un passo di Filone famoso filosofo giudaico di Alessandro d'Egitto il quale scriveva in greco ed era profondamente imbevuto di cultura greca il quale aveva introdotto quella famosa immagine e quella famosa locuzione espressione che diventerà poi classica anche nella meditazione dei padri Ambrogio per esempio costruirà un bellissimo testo quello che è espresso attraverso un ossimoro cioè un contrasto un'antitesi violenta la cosiddetta sobria ebrietas cioè c'è un'ebbrezza che nasce dalla sobrietà non è vero che il vero grande godimento è nel piacere ecco non ubriacatevi il vino quello non dà l'ebbrezza quello intontisce c'è invece una sobria ebrietas c'è un'ebbrezza straordinariamente esaltante che vi permette di passare di grado in grado nel mistero della gioia della felicità e della vita morale rettamente intese sesto l'autore usa anche un altro simbolismo simbolismo anche questo molto famoso non raro devo dire nella Bibbia per cui qui è la ripresa di un tema biblico però è Paolo soprattutto anche in altri punti delle sue lettere in cui recupera questo simbolismo e l'abbiamo questo questo elemento nel capitolo sesto dal versetto 10 al 17 è il simbolismo militare è un elemento assunto desunto dalla letteratura anticotestamentaria anche non c'è quasi bisogno di spiegarlo anzi direi in questo caso è proprio la pura lettura tenete presente come il cristiano prende anche un'immagine di violenza in questo caso come l'armatura militare e la trasfigura la trasforma e la fa diventare proprio il suo antipodo perché sentirete come è raffigurato e qui abbiamo anche un'immagine che peraltro era anche caratteristica di varie culture non soltanto del mondo direi strettamente parlando del mondo ebraico biblico è stato spesso studiato anche da parte degli autori che si sono interessati del nuovo testamento soprattutto di Paolo soprattutto della parte morale si è studiato anche si sono studiati tutti gli influssi che Paolo ha che Paolo dimostra i riverberi che dimostra di avere con la filosofia del tempo filosofia stoica la cultura popolare anche soprattutto nel campo etico queste immagini apparivano rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere le insidie del diavolo la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue di carne ma contro i principati e le potestà contro i dominatori di questo mondo di tenebra contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti questo elemento tenetelo presente per la prossima lezione quando incontreremo questo tema come importante strano in Paolo raro in Paolo importante per la lettera ai Colossesi prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove state dunque ben fermi cinti i fianchi con la verità rivestiti con la corazza della giustizia avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace tenete sempre in mano lo scudo della fede con la quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito cioè la parola di Dio qui ci sono tutte allusioni anche all'antico testamento e siamo giunti all'ultimo al settimo simbolismo il più famoso il più importante che è affidato a un elemento tanto caro alla Bibbia ora usato con finalità morale ma non solo perché questo simbolismo nella Bibbia è sempre stato usato con finalità teologica e anche in questo caso ha una finalità teologica e cristologica che è il simbolismo nuziale io non posso leggere e commentare tutta la grande tavola domestica come la si usa chiamare la tavola dei diritti doveri domestici questo codice della vita familiare quelli che sono sposati che sono qui presenti si sono sposati sia prima sia dopo il Vaticano II forse prima se non sapevano il latino non se ne sono accorti dopo sicuramente hanno avuto la possibilità di ascoltare proprio queste parole della lettura del loro matrimonio perché la tradizione cristiana secolare ha usato questa pagina il capitolo quinto della lettera agli Efesini dal versetto ventuno fino al capitolo sesto versetto nono l'ha usato proprio come grande codice della famiglia cristiana ed è per questo motivo che io vi invito a leggerlo attentamente tutti quelli che sono sposati naturalmente anche tenendo presenti i condizionamenti del tempo e a leggerlo in parallelo con l'altro codice della famiglia cristiana che la lettera ai Colossesi ci offrirà cioè dal capitolo terzo della lettera ai Colossesi versetto diciotto fino al capitolo quarto versetto uno due grandi tavole vedete parallele tra l'altro Efesini 5 21 6 9 e Colossesi 3 18 4 1 Io vorrei soltanto ora ricordarvi poche cose mi spiace di non poter magari la prossima volta aggiungerò qualche altra considerazione vorrei soltanto dirvi poche cose ma su un testo che meriterebbe di essere attentamente meditato è un testo questo ve ne accorgerete leggendolo che è datato Paolo non dimentichiamo non vive nel secolo ventesimo dove i diritti civili sono ben attestati e dove non si sa però fino a che punto donne e uomini maschi e femmine hanno gli stessi diritti e doveri non si sa fino a che punto dobbiamo dire ancora Paolo vive in una cultura che la cultura anzi ha già fatto fin troppo si vedrà qui in questo testo lo si vede lo si vedrà anche lo si è già visto nella lettera ai Corinzi per cercare di stabilire parità di diritti e di doveri qui però noi troviamo all'inizio una dichiarazione di questo tipo le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore il marito infatti è il capo della moglie come Cristo è capo della Chiesa lui che è salvatore del suo corpo e come la Chiesa sta sottomessa a Cristo così anche le mogli siano soggette ai mariti in tutto e questo è la tipica rappresentazione della società della vita del tempo del diritto greco e romano però guardate subito che cosa aggiunge e questo io lo vorrei sottolineare per far capire come esiste anche una componente ci sono anche altri elementi nella morale di Paolo insegnamento morale che sono datati che sono legati a una determinata cultura lui deve parlare a quel mondo deve entrare in quel mondo anche egli ragiona con delle categorie che sono legate al mondo però la cosa interessante è che ripetutamente in tutto il brano si usa per indicare il rapporto uomo-donna un verbo che mai si sarebbero sognati di usare il mondo greco e il mondo latino per il rapporto tra l'uomo e la donna al massimo tra uomo e donna c'è un rapporto di eros poi sapete che la donna comunque restava soggetta in tutti i sensi e quindi come tale era possesso del marito non aveva una sua non poteva essere oggetto quasi di un sentimento profondo di una relazione interpersonale se avveniva era perché era la nobiltà della persona ma non era codificato all'interno di una visione morale o sociale ebbene per parecchie volte ritorna il verbo agapan l'agape l'amore teologico l'amore più alto e deve essere quello che intercorre tra l'uomo e la donna nell'interno dell'unione noziale infatti dopo aver detto che le mogli sono sottomesse ai mariti subito dopo versetto 25 del capitolo 5 paolo dice e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stessa per lei e ancora quindi due volte il verbo agapan nel versetto 28 ricorre tre volte il verbo agapan così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo perché chi ama la propria moglie ama se stesso e ancora abbiamo nel versetto 33 ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stessa e subito dopo si vede che lui è legato al suo tempo e la donna sia rispettosa verso il marito però notate che egli introduce un rapporto da parte dell'uomo il quale doveva essere il signore il padrone quasi e nell'antico testamento era chiamato Baal per eccellenza come il dio dio Baal il signore il padrone e invece devi avere un rapporto di amore come ami te stesso anzi come Cristo ha amato la sua chiesa e ha dato la vita e vedete qui qui entra la teologia del matrimonio ecco sulla teologia del matrimonio vorrei riservare una piccola nota nella lezione prossima concludo salutando Paolo salutandolo questa volta lui o comunque la sua scuola una scuola che abbiamo detto avete visto di straordinaria densità dopo tutto stiamo commentando una lettera che è molto breve fatta di pochi versetti e noi non facciamo che una semplificazione di tutto il suo messaggio perché se dovessimo fare l'esegesi di questo testo cioè il commento preciso e puntuale di questo capitolo quinto di tutti i capitoli che abbiamo visto avremmo bisogno di una lunghissima lezione di un corso intero questa è solo un'introduzione quindi salutiamo Paolo e lo salutiamo ricordando sarebbe anche bello riuscire come facevamo un tempo riuscire ancora per esempio a fare entrare come commento anche l'arte fare entrare per esempio in questo momento durante la lettura quelli che hanno la possibilità di farlo perché magari posseguono una registrazione mentre ascoltano mentre leggono Paolo vogliono sostare perché Paolo diceva da studiare da meditare non semplicemente da udire da sentire vagamente da ascoltare in profondità potrebbero sentire ascoltare in questo caso un oratorio come il Paolus di Mendelssohn Bartoldi che ha composto Mendelssohn Bartoldi mi pare verso la fine della vita la sua breve vita 1846 un testo che secondo me riesce con la genialità proprio dei grandi musicisti riesce a rendere anche la lacerazione paolina e anche questa capacità di volare come aquila che ha il pensiero di Paolo e lo salutiamo lui e la sua scuola dico ancora i suoi fortunati discepoli se è vero che questa lettera la attribuiamo per esempio a un discepolo lo salutiamo con le parole perché sono ben adatte a sigillare un po' questo percorso che abbiamo fatto insieme con le parole che Bossuet il celebre predicatore vescovo di Mo vescovo francese ha usato concludendo un suo panegirico su San Paolo un panegirico lunghissimo un panegirico anche molto retorico sapete che allora la predica faceva anche un po' parte di un vero e proprio spettacolo d'altronde Bossuet certamente era molto meno noioso nonostante fosse così lungo di tanti predicatori certamente ebbene finisce nel 1659 finisce così Paolo non lusinga le orecchie e penso che ve ne accorgiate perché non è che il suo discorso sia fatto per essere goduto così semplicemente Paolo non lusinga le orecchie ma colpisce diritto alla mente e al cuore grazie grazie a tutti grazie a tutti